ciao ragazzi buona serata a tutti come state tutto bene è già passato qualche giorno dall'ultimo video oggi avremo un altro unboxing come sempre vi ricordo iscrivetevi al canale accendete la campanellina per non perdere le ultime notizie sugli ultimi video i commenti e tutto quello che viene pubblicato qua sul canale oggi il nuova video per quanto riguarda l'argomento musica oggi il nostro negozio lepre ci ha gentilmente fornito di un controller midi ma è un controller midi particolare perché come vedete qua è un controller midi play cosa vuol dire play questo modello qua viene fornito in due versioni la versione normale la versione play oggi non troviamo la versione play perché come vedete qua ha una versione a una cassa che permette di riprodurre il suono di quello che non sogniamo sulla tastiera o di quello che non sogniamo sul pad come potete vedere lo andiamo ad aprire ma faremo un video più sostanzioso io l'ho già aperto ero già diciamo anche trovato e vi devo dire che è favoloso come vedete è piccolissimo questa è la dimensione nella mia apertura quindi è presso che nulla come vedete qua a una cassa che permette di poter suonare di sentire quello che noi sogniamo tramite il pad e tramite la tastiera se noi vogliamo fare delle prove senza essere collegati al nostro computer però rimandiamo a più avanti dopo che fare un po di prove sui programmi che ho su computer e farò delle simulazioni e proverò meglio questo prodotto torniamo a ripetere il il motto del canale è utilizziamo prodotti a prezzo contenuto da questo prodotto qua al prodotto senza la cassa che qua abbiamo poca differenza di prezzo di una trentina di euro quindi ci vediamo prossimamente sul canale con la prova di questo splendido prodotto e grazie a cai per quanto ha fatto fino adesso ripeto questo qua non è un video sul cui io sono finanziato da cai per parlarne bene o parlarne male l'unico diciamo supporto è da negozio di lepre qua imperia che comunque mi supporta mi appoggia mi dà consigli parliamo su quello che noi vogliamo fare all'interno dei video dopodiché torno a ripetere i prezzi per me sono uguali a quelli del negozio quindi è materiale che io comunque acquisto e utilizzo dopodiché vedremo nei prossimi giorni utilizzandolo di fare una recensione più perfetta e con questo vi saluto buona serata a tutti ciao